Allora, sono arrivato, aspetta, di dove siete voi? Non mi ricordo. Sono di Carpenedolo. Ah, Carpenedolo. Lui invece è di? Covo, Covo. E io dicevo Romano di Lombardia, più o meno ci siamo dai. L'hanno portato. Allora, c'è il salame, c'è il formaggio. Dopo adesso sta preparando la costata qualcuno, qualcuno. Sta preparando la costata qualcuno, ma non si può far vedere chi è. Assolutamente. C'è la ragazza di Carpenedolo. Adesso, ecco qua, la costata che ha portato il mio amico. Il mio amico. Sei mio amico? Siamo amici. Ha detto che è mio amico, non ve lo faccio vedere, dice di essere mio amico. Comunque mi ha portato una costata, dopo la mangiamo. Il cacciatore l'ha promesso, ma non l'ha ancora tirato fuori. Il taccagno. Ah, dico alla Sara, guarda, non vuole essere ripreso perché è un personaggio famoso. E dopo mi tocca pagare la SIA e tutte le varie cose. Però intanto noi stiamo vedendo birra di là. E finalmente arriva la rossa con il cacciatore. Corino, bellissimo, buonissimo. Carne per sole donne. Grazie. Grazie.